4.000 tonnellate di rifiuti non conformi e illecitamente trattate sono state sottoposte a sequestro dai finanzieri al comando provinciale della Guardia di Finanza di Catania al termine di indagini su un traffico illecito di rifiuti, in particolare nella filiera di trattamento e lavorazione di vetro, plastica e carta. Nel dettaglio le operazioni hanno interessato un centro di selezione e smaltimento e un centro comprensioriale, entrambi a 20 sede presso la zona industriale di Catania e deputati a recupero della raccolta differenziata di rifiuti per la provincia di Catania. Le conseguenti attività hanno consentito di individuare e sottoporre a sequestro circa 4.000 tonnellate di rifiuti non conformi, in quanto non correttamente trattati e illecitamente stoccati presso il predetto impianto. I finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Catania hanno inoltre acquisito documentazione amministrativa o contabile sia presso l'impianto oggetto di controllo sia presso le società a partecipazione pubblica della città metropolitana di Catania ed Enna. Il titolare del centro comprensoriale catanese è stato denunciato per attività di gestione di rifiuti non autorizzata.